Il Salone del Libro di Torino dal 12 al 16 maggio all'Ingotto ospita quest'anno per la prima volta uno spazio dedicato interamente ai diritti gay e lesbiche. La Regione Piemonte, dice il coordinamento Torino Pride, ha condiviso il convincimento che un territorio più inclusivo lo si può costruire anche con la cultura, decidendo così di ospitare all'Arena, allo stand di Regione Piemonte, Consiglio regionale città di Torino, uno spazio dedicato ai diritti a gestire lo spazio e direttamente al coordinamento Torino Pride. Verranno offerte la consultazione, pubblicazioni dedicate a questo tema e anche date informazioni. Inoltre vi saranno numerosi incontri. A inaugurare la Gorà dei diritti il 12 maggio sarà la senatrice Monica Cirinna. Hanno confermato la propria presenza il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino, il Sindaco Fassino, il Presidente del Consiglio regionale Laus, il coordinatore del Torino Pride, Alessandro Battaglia e Silvia Stagnini.